Si torna a parlare di ripresa anche nel settore moda dopo un lungo periodo difficile che nel Vicentino ha visto la crisi di diversi marchi importanti del lusso, dalla palzileria alle aziende legate al marchio Valentino per arrivare alla gas. Il tema moda, tessile e il suo futuro è stato al centro di un incontro della Wiltec a Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza, un settore che proprio nel Vicentino e in Veneto vede la sua forza. L'area vicentina è popolata da circa 14.000 addetti che sono occupati nel sistema del contratto nazionale di lavoro, poi ci sono anche gli artigiani, se pensiamo sono 60.000 nel Veneto gli addetti al sistema moda e tessile. Occhialeria, calzaturiero, tessile e concia sono i distretti produttivi dove si concentra il più alto fatturato. Noi dobbiamo accompagnare i processi di trasformazione che avverranno con l'industria 4.0 attraverso la riqualificazione e la formazione, adeguare e accompagnare un cambio anche nell'istituzione pubblica perché possa formare i lavoratori del domani. Lavoro e formazione, imprese e scuola, mondi che oggi più che mai devono parlarsi. Diventa fondamentale il rapporto con le scuole, tanto che si sta ragionando di veramente rilanciare, rifondare gli istituti tecnici e professionali e poi certamente gli ITS che diventano l'alta formazione tecnica particolarmente richiesta.